In bilico tra l'opportunità di un governo più equo ed il rischio di un ritorno all'autoreferenzialità delle regioni, la riforma federalista è in questi giorni in discussione al Parlamento, ma ancora molti restano i dubbi sulle modalità stesse di questa rivoluzione che da qui a poco potrebbe cambiare molti aspetti della nostra vita quotidiana. A stimolare la riflessione su questo argomento, di cui molto si parla ma di cui poco si conosce, ci ha pensato la Caritas Vicentina nel suo incontro annuale dedicato alla formazione degli operatori. Il federalismo va sicuramente a determinare la qualità delle risposte del territorio e quindi come dire non potevamo non fermarci a capire dove stiamo andando. Invitati a dibattere sul tema fornendo interpretazioni diverse a seconda della propria appartenenza politica, Stefano Fracasso, consigliere regionale del Partito Democratico e Roberto Ciambetti, assessore regionale al bilancio in quota Lega. È assolutamente un'opportunità anche perché dobbiamo cambiare lo stato attuale della ripartizione delle risorse a livello nazionale. La spesa storica non ha più ragione di esistere. Quello che appunto a metà anni 70 è stato stabilito è completamente, diciamo, veramente vecchio rispetto alla situazione attuale ed è anche una situazione che deve riuscire a limitare gli sprechi delle risorse che ci sono. Purché non ci si illuda che il federalismo, che è uno strumento, possa sollevarci da definire invece quello che è il contenuto e cioè il progetto della società veneta. Che cosa vuole essere il Veneto in questo nuovo millennio? A volte ho l'impressione che stia succedendo questo. Moderati da Gianfranco Brunelli, vice direttore della rivista teologica Regno, che ha aiutato i presenti a contestualizzare socialmente e storicamente il fenomeno federalista, i due esponenti hanno illustrato la loro personale visione della riforma, a cui ha fatto da corollario l'auspicio preoccupazione della Caritas. Caritas vede il federalismo come un'opportunità. Importante è che non sia il luogo degli egoismi, ma sia il luogo della concretezza, della verifica.